Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti al burro di mandorle e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono burro di mandorle, uovo, gocce di cioccolato fondente, farina di tipo 0, sale, bicarbonato, zucchero di canna, vanillina e latte di mandorla. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi. A velocità 10. Rieuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro di mandorle, il bicarbonato e il pizzico di sale. e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Aggiungiamo l'uovo, il latte di mandorla e la vanillina. facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Questa sarà la consistenza che avremo ottenuto. Adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato fondente e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. L'impasto è pronto, formiamo delle palline e trasferiamole in una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo formato i nostri biscotti, adesso li posizioneremo in frigo per 10 minuti e poi li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti al burro di mandorle e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!